Il battesimo laico del restaurato Palazzo di Giustizia di Chieti è stato celebrato dal ministro guardasigilli Andrea Orlando. Il taglio del nastro del tribunale in piazza San Giustino è il primo tassello della cittadella giudiziaria del capoluogo teatino. Il tribunale di Chieti sede anche di corte d'assise e tra i più importanti d'Abruzzo, ma nella regione resta aperto il tema della chiusura dei piccoli tribunali prorogata a causa del terremoto. Orlando spiega che una possibile soluzione alternativa potrebbe essere legata ad una complessiva riorganizzazione del sistema dei tribunali abruzzesi superando eventuali campanilismi. Si lavori per una proposta che può essere alternativa di razionalizzazione. Se sarà razionale, secondo me avrà buone possibilità da qui al 2020 di essere accolta. Se ognuno difende il suo campanile rischia di passare invece l'idea originaria. Bisogna che ci sia un disegno di ripensamento complessivo, quindi è possibile che non sia questa la soluzione, quella ipotizzata a suo tempo definitiva, ma bisogna costruirne un'alternativa. Nel corso della cerimonia è stata intitolata l'aula penale all'avvocato Gagliano Magno, difensore della vedova dell'onorevole Matteotti, e alla compianta giudice Antonella Radaelli, scomparsa qualche mese fa. Il presidente del tribunale di Chieti, Geremia Spineglio, ha accolto il ministro della giustizia nell'aula di corte d'assise del tribunale, la stessa che nel 1926 ospitò il processo agli assassini di Giacomo Matteotti. Il ministro si è soffermato sul valore di questa rievocazione e sulla intitolazione a Pasquale Gagliano Magno. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al figlio e alla nuora di Gagliano Magno un telegramma nel quale omaggia la figura dell'avvocato, affermando che giustizia, democrazia e libertà sono gli ideali che ne hanno guidato l'azione nelle aule giudiziarie, dove ha contribuito a garantire l'applicazione del diritto senza mai venir meno alla sua indipendenza e alla sua onestà intellettuale.